cari amici di rado maria un caro saluto a tutti il titolo di questo vittoriale diciamo molto chiaro è questo prepariamoci al futuro col digiuno televisivo ovviamente il futuro è quello che ci davanti è quello che conosciamo è quello anche dei dieci segreti è quello comunque della grande battaglia escatologica fra la donna vestita di sole e il dragone infernale siamo entrati con l'apparizione della madonna megiugoria nel tempo dell'apocalisse dove l'apocalisse va intesa in senso cristiano cioè è una rivelazione del piano divino di salvezza apocalisse vuol dire rivelazione è la rivelazione del piano divino di salvezza in una fase in cui satana sciolto da le catene tenta di distruggere la chiesa e il cristianesimo e di imporre diciamo così la sua dittatura sul mondo e portarlo come ha detto la madonna alla distruzione come sapete la madonna ci ha ribadito che satana vuol distruggere le nostre vite e il paese sul quale viviamo quindi in questa fase in cui il mondo in pericolo in cui l'opera della creazione e della redenzione in pericolo la madonna interviene intervenuta con questa lunga presenza e rimarrà ancora fino alla vittoria del suo cuore immacolato allora questa questa diciamo tematica è importante è importante ora io qui parlo di giù televisivo in realtà tocco uno dei mass media più influenti ovviamente sulla nostra vita perché l'abbiamo accesa tutto il giorno poi in casa è sempre accesa la vedono tutti l'ascoltano tutti passa di tutto però ovviamente è tutto il campo dei mass media che va che va monitorato e fra questo anche diciamo il portatile dove c'è di tutto internet tutti i social i giornali insomma tutta la comunicazione cari amici a mio parere va monitorata dal punto di vista cristiano per la semplice ragione che è una informazione ormai non c'è più bisogno di sottolineare o tanto evidenze è informazione a servizio del pensiero unico cioè noi abbiamo visto cari amici che come come in in questo tempo possiamo dire il tempo della presenza di maria meggiugorie che è incominciata il 24 giugno del 1981 fino ad oggi c'è stata una profonda trasformazione della società che per dire con la madonna da cristiana è diventata pagana e soprattutto a partire dall'inizio di questo secolo quando appunto la madonna il primo gennaio del 2000 rivelò appunto in un'apparizione speciale che satana è sciolto dalle catene anzi aveva detto ora che satana è sciolto dalle catene consacratevi al cuore al mio cuore immacolato a quello di mio figlio gesù quindi ha chiesto una consacrazione speciale satana ha sciolto dalle catene un'espressione apocalittica come d'altra parte anche la madonna che appare meggiugorie con una corona e 12 stelle richiama la torna dell'apocalisse quindi siamo di fronte alle due figure dell'apocalisse e due figure fondamentali la donna e il drago non c'è dubbio questo è il nostro tempo nel quale viviamo il tempo dell'apocalisse durerà finché dio vorrà perché come sappiamo il tempo dell'apocalisse nella prima fase quella della vittoria del cuore immacolato di maria termina con un lungo tempo di pace dico lungo non sappiamo quanto durerà però sei secoli sei millenni per poi ci sarà l'ultimo attacco di satana alla chiesa e a cristo ma che terminerà con la venuta di cristo nella gloria allora anche satana verrà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo per tutti i secoli dei secoli quindi siamo nella prima fase dell'apocalisse quella appunto della donna e il drago e allora possiamo ben dire che uno degli strumenti con i quali satana sciolto dalle catene ha realizzato il suo capolavoro perché di questo si tratta cari amici perché quando la madonna nel messaggio del 25 marzo del 2000 eventi dice e ragionando l'annunciazione dice che satana regna vuol dire che satana regna vuol dire che ha tutto in mano cioè ha le persone in mano e ha gli strumenti in mano non c'è dubbio cari amici un'analisi sociologica che qualsiasi persona è in grado di fare anche voi lo potete fare che questa diciamo così che questa colonizzazione dei cervelli la parola colonizzazione dei cervelli è proprio del santo padre papa francesco attraverso la colonizzazione dei cervelli ai quali è stato trasmesso il pensiero unico anche questa espressione pensiero unico è quello del santo padre papa francesco questa colonizzazione è avvenuta attraverso i mass media ovviamente con la copertura del potere politico ed economico con la copertura dei circoli internazionali quelli che hanno elaborato la strategia comunicativa in occidente insomma dove sappiamo benissimo che sono le centrali del pensiero che sono anche le centrali dell'economia sono anche le centrali della finanza con le quali si è deciso in poche parole la deriva modernista cioè in poche parole si è deciso che il cristianesimo è una religione superata è una religione dei tempi bui dell'umanità adesso siamo entrati in una nuova era in una nuova fase dove quindi bisogna dire basta a Cristo basta la chiesa basta cristianesimo una nuova fase nella quale appunto l'uomo si è messo a posto di Dio questo è il pensiero unico quindi elimina Dio il Dio dalla divina rivelazione il Dio dalla fede il Dio dalla croce elimina Cristo tutta più si può riconoscere qualche bene qualche buona frase che ha detto ma non di più declassato da Dio a uomo come come si ormai normalmente si dice ormai da parte non solo dei non credenti ma anche delle delle correnti moderniste che sono all'interno della chiesa e quindi c'è proprio un reset un taglio culturale col passato incominciano nuova era che è quella dei lumi quella dell'uomo che ha il posto di Dio quella dell'uomo che è il padrone del mondo quella dell'uomo che è il nuovo creatore creerà una nuova umanità creerà un futuro di immortalità mi è venuto perfino da ridere stamattina mi è venuto da ridere perché il comico perché poi il diavolo è un comico cioè per quanto sia drammatico è un comico poi quando i suoi i suoi attori recitano la parte diventano proprio siamo oggi le comiche possiamo dire stamattina leggevo sul giornale che un grande miliardario che ha deciso di investire forse l'uomo più ricco del mondo uno dei più ricchi ha deciso di investire somme enormi per acquisire di mortalità insomma per carità non voglio andare ad odorare diciamo la sua immortalità quando è morto in ogni caso questo per dire in che mondo viviamo allora questa trasformazione rapidissima che è avvenuta cari amici e che ha trasmesso il pensiero delle elite culturali anticristiane perché il pensiero anticristiano si è sviluppato già a partire dal 1700 con successivamente con la rivoluzione francese e poi con tutto il pensiero europeo successivo è un pensiero dell'immanenza c'è un pensiero che elimina dio è un pensiero che fa dell'uomo la coscienza di dio l'autocoscienza c'è l'uomo che veramente cresce autocoscienza arriva a pensare che è lui dio data parte abbiamo qui anche noi giornalisti molto solerchi che diffondono quotidianamente queste cose ebbene cari amici questo pensiero unico anticristiano che ha come scopo di trasmettere al popolo bue loro lo chiamano il popolo bue comunque la nuova visione del mondo con che cosa lo fa lo fa con i mass media lo fa ovviamente con la scuola perché ovviamente anche il potere politico è comprato ecco come si intende comprato è complice di questo sistema nuovo di questa nuova religione che è la seconda bestia dell'apocalisse e cioè che ha la volto di pecora ma la voce di drago la nuova religione che ha supporto della prima bestia cioè il potere umano assoluto ebbene cari amici allora c'è questa questa trasmissione che a partire da qualche decennio a questa parte è diventata capillare è diventata pervasiva per cui fin dalle scuole elementari fin dai nidi di infanzia si trasmette il nuovo pensiero cioè noi veniamo dalla terra siamo figli dell'evoluzione della materia non c'è un'anima immortale non c'è dio non c'è trascendenza non c'è al di là e poi si delinea la vita come quella di un animale nel tempo e in qualche modo si cerca di farla accettare perché ovviamente diventa una vita dove non c'è prospettiva perché la vita senza dio è senza prospettiva è senza senso è come corre in una galleria in un labirinto all'infinito senza uscite finché non stramazzi adera ora io mi chiedo qual è il ragazzo quale giovane è in grado di accettare una vita di questo genere bisogna proprio presentargli in modo ingannevole con la luce falsa presentando come si dice la droga il sesso o quelle cose lì che le attirano o lo sballo eccetera ma una vita senza dio non ha come dire nessuna appetibilità nessuna bellezza è come diceva un attore in un film western era robert redford per dire un nome che conoscete tutti la vita è un'assurdità ma è così la vita senza dio è un'assurdità però bisogna farla digerire capito attraverso i mass media allora questa colorizzazione dei cervelli è stata talmente incisiva in questi ultimi anni che ci siamo risvegliati i pagani e siamo così controllati dal nostro modo di pensare e perché è un controllo che è quotidiano in tutto ciò che sentiamo tutte le radio eccetera radio maria tutte le televisioni forse non so qualcuno farà eccezione se non voglio esagerare tutta la comunicazione via internet quasi tutto cari amici eccetera poco isole cristiane che si è improntato alla trasmissione di questo nuovo verbo che è una menzogna che sono le tenebre che si diffondono e che cattura le anime tanto che la madonna ha detto che satana miete le anime che le armi sono malate e vanno verso la morte spirituale cari amici questa è la realtà che spiega perché perché con tanta rapidità le società orientali da cristiane che erano sono diventate pagane non solo ma sono così pagane che anche una un ammonimento così forte come quello dell'epidemia non è stato sufficiente cari amici a scrollarle a creare diciamo così una crisi di ricetto sì nel mondo c'è molta confusione molta agitazione molti protestano ma in realtà non c'è non c'è un movimento di conversione nel mondo c'è un movimento personale non un movimento di conversione non si è visto anzi vorrei dire che la caverna nella quale gli uomini vivono è ormai sprangata non filtra più nessuna luce o quasi nessuna luce cari amici la pulizia tecnica e l'immiazione dei cristiani è in atto nel mondo è una pulizia è volta appunto a estirpare e qualsiasi traccia di cristianesimo e di fede autentica e funziona cari amici perché come vedete la madonna ha detto proprio questo che satana ha sciolto dalle catene e che satana regna allora cari amici qual è l'obiettivo che mi pongo in questo editoriale cioè l'obiettivo è quello di far sì che noi ci prepariamo al futuro al futuro di cui la madonna ci ha parlato tante volte e che comunque è una valle è un tempo di tribolazione di battaglia è un tempo in cui anche la comunicazione avrà un ruolo molto importante perché è chiaro che il tempo dei segreti è un tempo in cui la comunicazione è fondamentale perché la madonna intende salvarci attraverso la comunicazione cioè comunicandoci tre giorni prima quello che avverrà e soprattutto dal quarto al decimo segreto la comunicazione riguarda eventi che la madonna ha definito terribili parlando come iriana ma dai quali lei ci salva attraverso la comunicazione cioè comunicando tre giorni prima comunicando tre giorni prima che cosa avverrà dove avverrà quanto tempo durerà quindi cari amici noi ci chiediamo ma se la comunicazione è tutta in mano al principe di questo mondo agli attori del pensiero unico diciamo alle potenze che dominano il mondo e mi chiedo come avverrà questa comunicazione non c'è dubbio cari amici che sarà ci saranno tentativi sistematici di falsificazione ma al di là di questo cari amici è che anche questa comunicazione se arriva a orecchi che sono tappati dalla falsa comunicazione precedente a occhi che sono chiusi accecati dalla falsa comunicazione precedente è chiaro che questa comunicazione salvifica all'ultimo minuto cari amici rischia di trovare una sordità e una cecità ampiamente diffuse quindi qual è l'obiettivo che noi apostoli di maria noi che abbiamo ricevuto che proporre è quello di disintossicarci rapidamente e radicalmente finché abbiamo tempo dalla comunicazione che domina il mondo che è la comunicazione improntata al pensiero unico è il verbo dell'immanenza della legazione di dio della morale della salvezza con l'intervento divino insomma cari amici noi sappiamo che satana è il menzognero e lui domina il mondo attraverso la comunicazione menzognera ma noi è ora cari amici è ora che ci liberiamo dalla comunicazione menzognera allora ovviamente questo presuppone dei passi che bisogna fare il primo passo che bisogna fare è quello di disintossicarci da quella comunicazione che arriva quotidianamente nelle nostre case attraverso un mezzo che è sempre acceso e che è la televisione non c'è dubbio che la televisione è stata in questi decenni dal dopoguerra in poi è stato lo strumento con cui è stato paganizzato il mondo è stato attaccato e deriso il cristianesimo ed è stato proposto la nuova visione della vita atea e materialistica cioè quella dell'uomo al posto di dio della distruzione della morale della distruzione dei comandamenti della dissacrazione di ciò che è sacro della della diciamo così demonizzazione del cristianesimo e della chiesa stessa è un'opera che va avanti diciamo così in un modo che non trova dighe non trova posizione non trova forze che dicono no con ciò cari amici non voglio adesso negare che non tutte le televisioni sono uguali questo è giusto dirlo non voglio negare però il 90 per cento 99 per cento sono tutti uguali però che non tutti i programmi sono uguali ci sono anche dei programmi portati avanti da persone cristiane che sono ben fatti quindi non voglio adesso fare di ogni erba un fascio però cari amici permettetemi di dirvi che se non è il 90 il 95 per cento o forse il 99 per cento dalla comunicazione che arriva in casa è una comunicazione comunque del pensiero unico di una visione che anticristiana della vita poi senza pensare poi la televisione ci porta anche dei filoni chiaramente dissacranti come il cinema è difficile trovare in questo settore questa comunicazione così importante come il cinema qualcosa che come dire apra una visione della vita diversa da quella che viene proposta cioè praticamente dissacrante quindi cari amici vorrei proprio come dobbiamo poi incominciare da questo cioè da una limitazione dalla presenza della televisione nella nostra vita la madonna ci ha invitato da tanto tempo al digiuno televisivo già all'inizio della quaresima una volta la madonna aveva detto spegnete la televisione la madonna ci ha anche data la ragione ma io adesso l'ho ampliata questa ragione proprio partendo dei suoi messaggi per cui è meglio che la televisione non non sia presente in casa e ci ha detto perché noi quando poi arrivò a casa la sera ci mettiamo lì davanti alla televisione quando abbiamo visto uno spettacolo televisivo andiamo a letto senza preghiera un'osservazione profonda cioè in pratica la televisione ha distrutto la preghiera l'ha distrutta al mattino l'ha distrutta la sera sicuramente ma poi tutti gli altri social come vedremo fra poco l'hanno distrutta al mattino perché ci svegliamo al mattino andiamo subito a vedere cosa è arrivato sul telefonino qua là su e giù in poche parole siamo in balia di questa di questo bombardamento quotidiano al quale bisogna dire basta molto semplicemente dire basta bisogna creare un'opposizione cioè bisogna disintossicarci perché se no arriviamo impreparati ai messaggi che il cielo ci vuol dare per salvarci allora cari amici in questi giorni mi è arrivato un mi è arrivato un un'email che ho pubblicato sul mio blog adesso vi do i connotati del mio blog perché lì ho pubblicato in questi giorni alcune lettere che fra poco vi leggo e potete andare a trovarle cioè il mio blog ha questo indirizzo diciamo mediatico cioè blog di paderivio tutto attaccato minuscolo blog di paderivio.it se su google mettete questo questo indirizzo entrate nel blog oppure potete andare nel blog di radomaria che è radomaria.it in alto a destra c'è il blog di paderivio potete entrare dunque il primo che ha rotto diciamo così silenzio al riguardo e ha fatto una proposta è proprio marco di cui abbiamo letto già ieri questo è arrivato questi email di 11 gennaio abbiamo già letto ieri questa lettera cioè poche parole questo ragazzo dice così paderivio volevo chiedere di lanciare un appello ovviamente con le necessarie cautele invitando la gente a spegnere la tv peraltro già in crisi dal momento che grazie a dio gli indici di ascolto sono di tutte le emittenti sono tutti o quasi in netto calo ridurne ulteriormente la capacità di condizionamento significerebbe finalmente impedire che continui a divulgare apprezzione paura o emotività fuori controllo proprio in questi giorni ha perso uno studio su un sito internet cattolico il sussidiario che mostrava come nell'indice di gradimento diciamo così di vari su varie tematiche durante la pandemia al primo posto risultava risultavano licenziati che hanno comunque fatto bene il loro lavoro al secondo posto i medici gli infermieri eccetera all'ultimo posto ma ultimo posto al 23 per cento soltanto i mass media che sono giudicati insufficienti e devianti durante tutto il tempo della pandemia quindi è più che una sensazione è proprio un'incapacità e una come si dice una fare i lavori pensando soltanto all'audience e non ai vantaggi dell'ascoltatore infatti scrive Marco spegnere quel generatore di ansia di pessimismo sarebbe già un notevole passo avanti al fine di recuperare la capacità di discernimento questo ragazzi è importante recuperare la capacità di discernimento ed avere così una più chiara comprensione del periodo di fondamentale importanza che stiamo vivendo questa diciamo così questo appello a spegnere la tv l'ho letto e ho ricevuto diversi email di gente che non solo che approva ma che già è incominciato lei stessa a realizzare questo digiuno televisivo con risultati molto importanti dal punto di vista personale esistenziale e voglio leggere alcune di queste testimonianze appunto che prendo dal mio blog per incoraggiarvi su questa strada vorrei però prima leggervi una diciamo vorrei però prima leggervi l'ultimo email che ho ricevuto da parte di un nostro ascoltatore da 25 anni che ha fatto un'analisi molto acuta di quello che è il compito non solo della televisione ma anche dei mass media per trasmettere la nuova religione cioè il pensiero unico la regione che dovrei sostituire il cristianesimo ed è un'analisi che trovo molto acuta e appunto la titolerei così questa analisi la tv al servizio del pensiero unico vediamo allora questa testimonianza di un ascoltatore che anche lui si chiama marco ma non è il medesimo dunque caro padre livio come stai sono un papà e nonno di 60 anni e seguo la radio da quando ne avevo 25 fino al mese scorso ho lavorato come responsabile commerciale attualmente sono disoccupato preghiamo perché trovi un lavoro viaggiando molto non ho quasi mai perso la tua trasmissione del mattino ho ascoltato sul sito web molte catechesi e nel mio piccolo aiuto costantemente questa voce indomata indomabile che annuncia la verità in mezzo a un mare di benzogne lo ringrazio e spero di di averlo fatto e di farlo ancora ovviamente ho avuto modo di ascoltarti anche stamane questo ed ieri o altro ieri questo email ho avuto modo di ascoltarti anche stamane e mi ha colpito l'appello che hai letto cioè quello di marco quello lanciato ad un ascoltatore che si chiama come me l'avrevo potuto scrivere io praticamente nello stesso modo purtroppo la tv nata con scopi nobili si è trasformata a partire dagli anni 80 nel mezzo più potente per diffondere il verbo mondano la nascita del cosiddetto liberismo ha completato l'opera trasformando questa tecnologia in un vero e proprio minds reset cioè risettamento della mente un azzeratore delle menti soprattutto quelle del popolo cristiano ogni argomento ogni pubblicità e ogni messaggio in chiaro o sublimale che sia trasmette il pensiero unico fondamentalmente quello del gender a cui sono legati strettamente la cancel culture cioè la cultura della cancellazione ovviamente del cristianesimo e un reale esterminio di massa cioè sterminio dei cervelli di massa per la riduzione drastica della popolazione mondiale quindi c'è anche questo obiettivo la riduzione drastica della popolazione mondiale la domanda è chi guida le televisioni se volessimo veramente darci una risposta credo che non sarebbe esaustiva a monte se dal livello conosciuto cioè imprenditori gruppi di network investitori istituzionali esiste un livello oscuro di cui si possono intuire le propaggini ma non definire il loro reale asset di origine cioè veramente c'è comunque una elaborazione diciamo della nuova religione a livello diciamo delle teste d'uovo che hanno scoperto di essere dio al posto di dio sono circoli internazionali soprattutto di origine soprattutto di origine americana e anglosassone comunque che che commissionano il verbo mondano a tutti i governi obbligando ad accettare insomma quello che è più avanti di tutti in questa diciamo in questo reset della mente è sicuramente l'unione europea che ha cercato anche di cancellare la parola natale figuriamoci è evidente che soprattutto in europa si stia cercando fortemente di sostituire una democrazia con una pseudo governance che altro non è se non una dittatura oligarchica mascherata e sostenuta dalla continua generazione della paura e dell'insicurezza e questo attraverso i media appunto di cui la tv è lo strumento primario ho saltato passaggi diciamo di questa lettera perché ovviamente era necessario tuttavia caro padre livio conclude confido in gesù mio salvatore confido nella potenza del suo braccio nella sua misericordia nella sua giustizia perché non c'è mai stata un'altra parola al di fuori di quella di gesù che mi convinca di più mi sovviene spesso la domanda di pietro da chi andremo signore solo tu hai parole di vita eterna forse oggi come non mai è così attuale questa parola di gesù e questo è una analisi sociale di quello come detto all'inizio cioè del pensiero unico commissionato attraverso la televisione però adesso cari amici voglio voglio leggervi vediamo che comunque potete trovare sul mio blog un paio di testimonianze molto belle di persone e sono giovani che hanno come dire praticato la disinfestazione cerebrale il lavaggio di purificazione della propria mente della propria anima questa è una ragazza che si chiama tamara lo propongo ai nostri giovani ma tutti quelli che vogliono riacquistare la capacità di pensare autonomamente senza essere imbigliati da quei legami vi ricordate di cui ci ha parlato la madonna nel messaggio di ottobre ricordate quando madonna parlava di quei legami e sono questi i legami i legami mass mediatici quei quali veniamo imprigionati e colonizzati allora gentile padre livio mi scrive tamara sono una giovane ascoltatrice di 24 anni e la seguo da quando ne avevo 10 pensate che che roba è ma noi abbiamo anche di quelli che ci ascoltano da 35 anni lei in questi giorni ha parlato molto da tv spazzatura e volevo raccontare anche la mia testimonianza mi sono convertita ascoltando la sua radio ma per noi la radio maria è la radio di maria ma anche tamara l'è convinta un po per inerzia ma poi incredibilmente da una ragazza mondana che ero ho incominciato a interessarmi alle cose del cielo quattro anni fa quindi aveva 20 anni ho spento definitivamente la tv perché faceva molto rumori nella mia testa e mi distraeva dalla preghiera ma non era bastata nemmeno questa decisione la spazzatura cioè la colonizzazione cerebrale arriva anche dal cellulare dai tablet dal computer noi giovani in smart working o in dad non riusciamo proprio farne a meno cioè cellulare tablet dal computer poi si arriva a mezzanotte con il cellulare che ti cade in faccia dopo un'ennesima giornata da connessi e la preghiera che fine fa per questo oltre al digiuno a pane e acqua come si esalta la madonna bisogna fare digiuno dalla continua info barra disinformazione cioè fare digiuno dalla continua informazione e disinformazione andare a letto con rosario in mano e svegliarsi con il signor della croce e la preghiera sulla bocca e non con l'impulso di controllare notifiche su facebook o sul telefonino e conclude così tamara questo renderà ogni giornata speciale anche se il solito tram tram quotidiano un caro saluto tamara questa è una testimonianza di una persona che giovane che ha fatto reset non solo dalla televisione ma anche da tutti i mezzi attraverso i quali arriva la spazzatura cellulare tablet computer cari amici si tratta molto semplicemente di usare questi mezzi non di divanerne schiavi ovviamente vediamo questa qui questa bella testimonianza che è di maurizio questo un ragazzo e anche lui quindi è un esempio da seguire non ho né televisione e non uso facebook caro padelivio buonasera mi riferisco alla lettera di marco c'è la prima da lei menzionata questa mattina durante la trasmissione lettura cristiana della cronaca e della storia anch'io come marco non ho la televisione non uso facebook anche se sono iscritto e maneggio con molta cura in maloderante l'età maio della sedicente informazione sono ormai dieci anni o forse più che non guardo la tv e le assicuro non mi mancano i mezzi busto gli esperti le artificiali veline o velone alla plastica e quant'altro riesco ugualmente ad essere bene informato la mia vita poi si è notevolmente arricchita sul piano spirituale culturale e relazionale e come si vede non sono ancora morto e né mi considero un cavernicolo da altri tempi benvenga una campagna che faccia riflettere sulla necessità di affrancarci da questo inutile elettrodomestico limitandone per quanto possibile il suo uso che risulta sempre di più vuoto e dannoso ricordo che una simile iniziativa venne presa anni scorsi forse a fine degli anni 80 inizio anni 90 da un vescovo dell'emilia romana mi pare quello di modena per la durata di tutta la quaresima comunque la madonna stessa ci aveva invitato già fin dai primi tempi a spegnere la tv la qualcosa quella di questo vescovo dell'emilia romagna che aveva appunto per quanto riguarda la quaresima invitato a spegnere la tv la qualcosa allora venne guardata con molto rispetto e simpatia anche dal cosiddetto mondo laico allora però esistevano ancora i laici virgolettato oggi invece dobbiamo confrontarci solo con dei rancorosi giacobini nichilisti e disperati chiedo una preghiera per me e per le mie necessità grazie di tutto maurizio queste sono alcune delle testimonianze ma ne ho ricevuti diverse che ho voluto proporvi come esempio concreto cari amici perché c'è un problema serio che è questo che la scristianizzazione è avvenuta attraverso i mass media soprattutto attraverso quelli e dobbiamo anche a questo punto ringraziare molto radio maria perché comunque diciamo ha è andato avanti controcorrente ma non solo è l'unico mass media cattolico di una certa importanza che è riuscito a preservarsi dalla pubblicità perché anche attraverso la pubblicità anzi la pubblicità uno dei mezzi più pervasivi di una visione non cristiana della vita quindi ringraziamo la madonna per questo mezzo che ci ha dato e diciamo portiamo avanti so benissimo che questa è una battaglia di davide contro il gigante golia però so anche cari amici che un pallone gonfiato che è appunto quello mass mediatico che gonfia e diffonde la menzogna è questa visione del mondo alta materialistica so bene che basta uno spillo perché i palloni si sgonfi noi dobbiamo essere quello spillo cari amici e arrivare già fin da ora cari amici avere il cervello sgombro in modo tale da poter recepire il messaggio del vangelo e il messaggio della regia della pace posso dire cari amici che se dopo 40 anni la madonna che è qui e che qui come maestra che ci ha fatto i messaggi che ci ha dato meravigliosi che comunque si sono diffusi nel mondo diciamo più che altro porta a porta mano a mano la madonna ci ha detto una volta siete voi i vassoi che diffondono i miei messaggi la madonna ha puntato sulla testimonianza personale poi i mass media a disposizione sono molto pochi sono molto pochi comunque sicuramente non adeguati alla grande battaglia cari amici però diciamo così se questa presenza non ha ottenuto gli effetti che poteva ottenere perché guardate è una presenza qui di 40 anni così meravigliosa con così tante conversioni con così tante testimonianze se non è se non ha sfondato perché non ha sfondato perché la madonna ha detto c'è un numero la madonna ha detto un numero abbastanza grande mi ha seguito ma un numero enorme non mi ha ascoltato questo soprattutto all'interno della chiesa ovviamente questo è dovuto è dovuto a mio parere al martellamento dei mass media al fatto che i mass media sono a servizio del pensiero unico e che hanno sempre cercato in tutti i modi di demonizzare meggiugorio e d'altra parte possiamo dire a domani è forse l'unico mezzo cattolico che c'è che comunque è in grado di fronteggiare con coraggio questo sterminio culturale non per niente nel mirino un giorno sì un giorno no ad ogni modo questo a mio parere è quello che io sento di dirvi incominciare come si dice a purificare i cervelli a purificare i cuori a stappare le orecchie in modo tale che la madonna possa parlarci in modo tale che la madonna possa guidarci questo è fondamentale cari amici per il prossimo futuro che dobbiamo preparare fin da adesso cioè che ci sia veramente cari amici un numero sempre crescente di famiglie in cui alla sera invece della televisione si dice il rosario e si ascolti radio maria con questo terminato carissimi vi ringrazio per l'ascolto un abbraccio e andiamo avanti sempre con coraggio con la massima fiducia la totale fiducia nella presenza e nell'aiuto della regina della pace grazie